Ciao a tutti ragazzi, sono Eros Rollo, un allenatore di kickboxing presso la palestra Alma Sport a Lecce. Oggi andremo a fare una lezione aperta a chiunque, dal neofita all'amatore sino all'avanzato. Il materiale necessario è un coppia di pesetti o bottigliette d'acqua, una corda, un bastone in legno, un manico di scopa e un tappetino. Gli obiettivi dell'elezione sono quelli di andare a stimolare e lavorare su forza, velocità, resistenza, coordinazione ed elasticità muscolare. Sono gli obiettivi che mi fisso da allenatore e da personal trainer. Partiremo con un riscaldamento del warm up fondamentale per aumentare l'apporto di sangue nei muscoli, l'elasticità muscolare e ridurre qualsiasi rischio di infortunio. Incominciamo, buon allenamento! Partiamo con delle rotazioni delle mani sulle spalle, rotazioni prima in avanti, poi indietro. Io cercherò di fare tre o cinque, ma tre al massimo cinque ripetizioni per esercizio, però voi da casa almeno dieci ripetizioni per ciascun esercizio. In posizione di guardia vuol dire braccia su, puni in altezza delle tempie, gamba sinistra avanti, tallone sinistro perpendicolare alla luce destro, gommi di stretti, apertura dell'ancro. Sciogliere bene, saltelli, jumping jack, gambe tesa, braccia tesa, con le variazioni di braccia, gambe. Sciogliere bene, sciogliere bene, sciogliere in marcia, metto giù, avambraccio vidi, ogni volta che il piede sinistro troppo a terra, estensione delle braccia con rotazione e puni in avanti. su, completo, avanti, laterale, su, avanti, laterale, su, bene. sciogliere, mani di glutei, petto in fuori, corsa calciata, con lo scatto, skip, ginocchia su. sciogliere, braccia tesa, altezza del mento, apertura, saliamo, talloni su, prima in avanti, laterale, sciogliere, mani della nuca, gamba destra in avanti, incrociamo, gomito sinistro, questo, uno, due, sempre più veloce. lo di chi incrociamo, gomito, gomito, su, uno, su, uno, torsione. bene, sciogliere, saltelli, saltelliamo con estensione di braccia e gambe unite, in avanti, questo, uno, due, tre, quattro. un esercizio sempre per dieci volte. gli allungamenti statici invece impegniamoci per almeno 10-15 secondi, come in questo caso l'allungamento del quadricipite. in posizione di semi squat, non andiamo con la spalla indietro per non infiammare la fascia lombare, soprattutto per non perdere l'equilibrio, mento giù, braccia distesa, rotazioni. cambio d'orso, andiamo insieme, stiamo sui talloni, indietro, dopodiché prendiamo la nostra corda e facciamo almeno due minuti per i neofiti, vuol dire una ripresa, un round. semplici movimenti, eh, per chi sta iniziando, va benissimo, pie pari, una rotazione del polso veloce, non è importante tanto il saltello, ma quanto la velocità del polso per ruotare la corda. quindi saltello, ci fermiamo bene, facciamo forse la corda, facciamo questa volta due, uno, due, ci fermiamo, mentre chi è un pochino più avanti, chi si è già sotto la corda, può fare tre riprese di due minuti con un minuto di recupero tra la nostra azione e l'altra. qui asù, andiamo, possiamo anche approcciare, bene. Dopo aver fatto un buon riscaldamento, un buon warm up, ci prepariamo a lavorare su un circuito. Come ho detto prima, andiamo a stimolare velocità, forza, resistenza, elasticità e coordinazione. Il primo circuito che vi propongo, per questo avremo bisogno di un timer, di un cronometro, oppure, e contiamo da noi, non sarà perfetto, però meglio di niente, andremo a alternare vari esercizi alla corda. Mi spiego meglio. Partiamo. La prima stazione sono 30 secondi di corda. Ovviamente, doveva intreggersi. 30 secondi di corda. Chi ha le prime api, saltello sempre, gli altri invece, aumentano il ritmo. Quello che dico sempre ai miei ragazzi, chi sta iniziando, deve lavorare sulla qualità dell'esercizio, sulla pulizia dell'esecuzione, mentre gli avanzati devono ridurre i tempi di azione e di reazione. Dopo i primi 30 secondi, partiamo alla seconda stazione. piede destro in avanti, diretto sinistro, pugno sinistro. Incrociamo, giriamo bene le spalle, in modo che la spalla sinistra stia avanti, quella destra dietro. Cambio, gamba, cambio, pugno, cambio, 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 sempre più veloce, mi raccomando però la pulizia dei movimenti. Rotiamo bene le nocchie in avanti, giriamo le spalle, sul cambio, per 30 secondi. Dopodiché, ritorniamo sempre sulla corda. Terza stazione. Per 30 secondi. Quarta stazione, faremo esercizi sempre propedeutici alla nostra disciplina, quindi lavoreremo anche con le ginocchiate, perché nel K1, nella nostra disciplina, che è un'evoluzione della kickboxing, si portano anche le ginocchiate. Ginocchiata avanti, sinistra, va alla bocca dello stomaco al fegato, apertura laterale, blocco del calcio dell'avversario, che vorrebbe colpirci il nostro quadricipite, e noi rimettiamo il blocco, quindi ginocchi avanti, apertura laterale, cambio con la gamba che sta dietro la destra, parte dietro, torna dietro, blocco. Quindi facciamo, avanti laterale, avanti laterale, in serie per 30 secondi. 1, 2, 1, 2, sulle braccia, sempre in guardia, teniamo la guardia, quarta stazione, quinta stazione, ancora corda, sesta stazione, torniamo il nostro tappetino, e iniziamo a lavorare sull'addome, sul core training. Isometria, posizione supina, punta i piedi verso la faccia, gambe tese, non toccano mai terra, addome contratto, palmi delle mani, rivolte verso l'alto, in contrazione per 30 secondi. Benissimo. Prima serie, terminata. Andremo adesso a fare, 60 secondi di recupero passivo, e ci prepariamo, per il secondo circuito. Questa volta, oltre a, conservare sempre il tappetino, e la corda, prendiamo i nostri pesetti. Come vi dicevo, io a caso ho solo, quelli da 2 kg, vanno benissimo, da mezzo chilo, da chilo, non andiamo oltre 2 kg, perché poi diventano pesanti per il nostro lavoro, altrimenti i bottiglietti d'acqua vanno benissimo. Il principio è sempre quello, della serie precedente. Corda intervallata degli esercizi, quindi prima stazione, 30 secondi di corda. La stazione, ritorniamo a lavorare, sulle braccia, come state potendo, vedere anche voi, si sta lavorando su braccia, gambe, addome. Posizione di guardia, come prima, tallone sinistro perpendicolare all'alluce destro, comiti stretti, mento giù. Power training vuol dire che per 30 secondi noi porteremo diretti, sinistro e destro, ruotando bene le nocchie in avanti, non apriamo i comiti e giriamo le spalle. Lo eseguiamo insieme. metto giù, mi raccomando, già le spalle come distretti alla massima velocità. 30 secondi. Ritorniamo con la corda. con il ritmo per gli avanzati, con il ritmo sulle ginocchia. Quarta stazione. Seguendo sempre il principio di esercizi propedeutici della nostra disciplina, in posizione in guardia andiamo a fare lo squat, risaliamo col caricamento, scarico, richiamo, giù. Non è che altro che un front kick, calcio frontale, quindi posizione di squat, accosciata, faccio per bene, non mi siedo, non cado con la testa né in avanti né indietro, scendo, carico, scarico, richiamo, giù, accosciata, con la gamba che sta dietro, carico, scarico, richiamo, giù, carico, scarico, richiamo, giù. Sempre più veloce, mi raccomando, chi sta iniziando pensi soltanto alla qualità dell'esecuzione, alla pulizia del movimento. Quarta stazione, quinta, ancora corda, sesta stazione, incrociamo, lavoriamo, quindi, sull'addome, la shantwista, ovvero, un crunch, una contrazione, incrociando il gomito al ginocchio opposto. Sedele a terra, posizione subina, incrociamo il gomito al ginocchio. Possiamo farlo lentamente, lentamente, con scatti, veloce, 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 durante 30 secondi. Bene, ragazzi abbiamo finito la seconda serie, 60 secondi di recupero attivo e ci prepariamo per la terza e ultima serie. Però il lavoro non è finito, ci siamo per la terza serie, partiamo con la corda, 30 secondi sono terminati, in posizione di semi squat, addome contratto, collude contratti, petto in fuori, alzate avanti e laterali. Vi raccomando, non andiamo oltre il mento, e non superiamo le spalle, petto in fuori, alzate avanti e alzate laterali, alzate avanti e alzate laterali, alzate avanti e alzate laterali. Bene, ormai la corda la sapete fare meglio di me. Quarta stazione, andiamo a lavorare sulle gambe, mai in altezza ai fianchi, affondi col saltello, quindi invertiamo la gamba, affondo, cambio, affondo, cambio, un altro che questo. Mi raccomando, non cadiamo col busto in avanti, ma sempre linea retta, addome contratto, petto in fuori, affondo, scendiamo, cambio, saltiamo, affondo, saltato, invertendo la gamba che va in attacco. Per 30 secondi, rimediamo la corda, e infine andiamo a fare la stessa stazione. ritorniamo a lavorare sull'addome, sul core training. Questa volta possiamo prendere i nostri pesetti, sono un carico, uno stress, che è, se non sono pesetti, va benissimo, bottiglietta d'acqua, un disco a casa che abbiamo inchiso, un peso, una cassa d'acqua, addome contratto, rotazione del busto, da un lato e dall'altro. Benissimo, un minuto di pausa, e cambiamo esecuzione. adesso andremo a fare per tre volte, cinque piegamenti e dieci diretti. Cinque piegamenti, dieci diretti, cinque piegamenti, dieci diretti. E un minuto di pausa, lo facciamo insieme. Mi raccomando, quando facciamo i piegamenti sulle braccia, scendiamo insieme e scendiamo insieme. Non restiamo col sedere troppo giù, o non alziamo troppo il sedere e lasciamo il petto in due, troppo vicino al pavimento. Gomiti che scendono lungo i fianchi, scendiamo insieme, richiamiamo insieme. Ne facciamo cinque. Subito in piedi, in posizione di guardia, dieci diretti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok ragazzi? Di nuovo, cinque piegamenti. su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Giù ancora. In piedi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Un minuto di recupero, lavoro di cinque. Adesso andiamo a cambiare, cambiamo. Non lavoriamo più sulle braccia, andiamo a lavorare sulle gambe. Faremo cinque squat, cinque accosciate. Petto in fuori. Punta leggermente sollevata, rivolta all'esterno. e dieci front kick. Cinque con una gamba e cinque con l'altra. Carico, scarico, richiamo giù. Mi raccomando, la pulizia di esecuzione. Carico, scarico, richiamo giù. Il braccio della gamba che colpisce va a protezione per evitare un controattacco dell'avversario. Carico, scarico, richiamo giù. Carico, scarico, richiamo giù. Carico, scarico, richiamo giù. Carico, scarico, richiamo giù. Cinque squat, cinque accosciate. Dieci front kick, quindi cinque per gamba. Ripetiamo questa sequenza come abbiamo fatto per le braccia, tre volte. Un minuto di recupero. Dopo aver fatto anche queste esecuzioni lavoreremo sullo vuoto o meglio come conosciuto in inglese shout-off boxing. Per i neofiti concentriamoci su colpi che abbiamo fatto oggi ovvero colpi lunghi, diretti. Uno diretto sinistro due diretto destro i calci frontali e poi un esercizio possiamo mettere anche il ginocchio su qualche ginocchiata fondamentale cosa che io cerco di insegnare dalla lezione zero a tutti i ragazzi che vengono in palestra il blocco sullo kick sui calci dell'avversario che vogliono andare a colpire il nostro quadricipita. mi raccomando addome contratto gamba su il gomito sta all'esterno della gamba questo e blocchiamo. Quindi per chi è alle prime armi per due minuti scioltezza gomiti stretti posizione di guardia tallone sinistro perpendicolare alla luce destro gambe larghezza spalla anche un po' di più morbidi gomi di chiusi spalla sinistra alta 1 2 alle sinistro 1 2 1 frontale destro diretto destro 2 blocco il low kick mentre gli avanzati le riprese ne possono fare 3 di vuoto mettendo 3-4 colpi non di più sotto le braccia le gambe cosa voglio dire 3 colpi un gilato 1 di cambio una ginocchiata o diretto sinistro e detto destro circolare al fegato diretto sinistro diretto destro sgancio sinistro il 3 e low kick un calcio basso ritorniamo in guardia finito lo shuffle boxing il vuoto ci concentriamo sulla fase degli allungamenti prima però prendiamo il nostro bastone legno un manico di scopa posizione di semi squat in pugnatura un pochino più larga quella delle spalle le aperture ne facciamo come minimo 10 alla decima e stiamo alla massima estensione vetto in fuori allunghiamo dopodichè sempre in posizione semi squat vetto in fuori addome contratto gluteo contratto torsione del busto benissimo allunghiamo pollice all'esterno allunghiamo il braccio sinistro almeno 10-15 secondi sull'allungamento statico cambio cambio affermiamo cambio braccio 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 teso afferriamo la punta del piede allunghiamo il quadricipite il nostro sguardo mento giù sguardo fisso di fronte a noi li resta con lo sguardo e allunghiamo per non perdere le due libri allunghiamo sempre di più cambio incrociamo inspiriamo giù espiriamo fondamentale sempre ragazzi la fase della respirazione inspiriamo col naso espiriamo con la bocca non andiamo mai in debito d'ossigeno ogni iperventilazione raccomando la respirazione è fondamentale cambio gamba per gli allunghamenti dobbiamo usare il nostro madrasino possiamo stare aggando il hielo e andiamo senza toccare la terra andiamo senza toccare la terra andiamo ispiriamo giù afferriamo le punte e tiriamo poi possiamo portare il piede destro pianta il piede destro accanto al ginocchio sinistro e aumentiamo l'inerzia d'esercizio con il braccio destro che apre il ginocchio cambio bene ragazzi spero di essere vi stato utile vi avevi fatto passare una mezz'oretta di sport e di allegria per qualsiasi cosa continuate a seguirci affidatevi allo sport in questi momenti restate a casa e torneremo presto a divertirci insieme buona giornata e buono sport a tutti grazie